Occorre garantire più attenzione ai malati e questa la richiesta a tutte le istituzioni fatta dall'isernino Michele Lombardi che si è trovato a vivere all'ospedale veneziale uno spiacevole episodio con sua suocera. Abbiamo portato alle 4 che l'ambulanza mia suocera, 90enne, Alzheimer, c'era anche l'Alzheimer, per una questione di respirazione. Non respirava bene, abbiamo pensato di portarla al pronto soccorso. Non hanno permesso a un familiare di assisterla. Quando siamo rientrati ci hanno chiamato, mia moglie è andata, l'ha trovata con un occhio pieno di sangue e giustamente era caduta, perché altrimenti non si poteva fare quel danno. A quel punto lì hanno disposto un'attacca. Ci siamo riportati a casa con un occhio gombio pieno di sangue e catetere senza la sacca. Il catetere, giustamente, non avendo la raccolta, la busta, fu riuscito. Però poi l'ho chiesto all'ospedale, un medico ha mandato l'infermire qui a levare il catetere. Le condizioni di affanno in cui versa il pronto soccorso del Veneziale sono ormai note e ora anche la richiesta di Lombardi si aggiunge alle tante già espresse da cittadini, medici e paramedici. Serve intervenire rapidamente per trovare soluzione ai problemi dei turni sfiancanti e della carenza di personale, così da far sentire ogni paziente tutelato. I medici sono bravi, però manca personale. Le istituzioni si devono dare una mossa, perché stiamo in mano a nessuno così. Se manca il personale, giustamente quelli sono sotto stress i medici, l'infermire pure. E quindi facciano appello alla regione e alle istituzioni che non facciano che l'ospedale di Senna lo riportino come era prima.